Dove è il cognome? Lorentino Maria Zeppora Milano Piergioggio Da chi avete saputo che saranno questi provini? L'abbiamo letto su un giornale Su un giornale Polis Come mai siete venuti? Perché ci interessa Vogliamo provare Provare a? Partecipare Per diventare? Per diventare degli attori, non lo so Attori comic? Certo, attori comic Se vuoi ti racconto una barzelletta Vai Allora, c'è un adolescente sui 12 anni Che sale su un autobus Che sale su un autobus E c'è una signora davanti a lui E lui gli mette la mano nel sedere E a un certo punto c'è un uomo accanto E dice, pupetto ma che stai facendo? Veramente non è pupetto, è pupul C'è un po' con la satella alla fine La parola c'è non si può dire E che tipo di ruolo potresti fare come attori comic? Ma sia delle comparse Sia qualche altra mansione Io posso dire una cosa Come sono un buon osservatore Posso fare anche sul momento Ad esempio ti faccio un esempio Qua c'è scritto panella e croquet Lei mi ha detto di no Io volevo prendere una panella e una croquetta E portarla qua Ma lei mi ha detto di no Improvvisare Quindi un atto simbolo Sì Va bene Mi date i vostri profili A destra A finisce Risparate da un lato E poi a lato Sì Tutti e due Ok? L'altro lato Attenzione Ok? Ok Vi hanno mai detto che assomigliate a qualcuno in particolare? Assomigliate a? A questo Non avete A voi stesso A voi stesso Perfetto Va bene Grazie Grazie